Bene ragazzi, benvenuti al nuovo video Buld PC Stiamo parlando secondo me di un Best Buy di questa fascia L'abbiamo regalata al nostro figlio per Natale In questo momento è sprovvisto di scheda grafica Perché come voi sapete acquistare al giorno d'oggi in scheda grafica è impossibile Perché non se ne trovano e quelle poche che ci sono costano davvero a prezzi folli Ma al di là di questo, una volta stabilizzati i prezzi delle schede grafiche Questo PC diventa un super operaio capace di fare un po' di tutto Chiaramente stanno dalla fascia media sia per il video editing e per il gaming Ma ora andiamolo a montare La build in questione è equipaggiata da un Intel Core i5 di decima generazione Esattamente 10.400 Una motherboard MSI MEG B460M Mortar Wi-Fi Dissipatore a liquido della Deepcool Castle 240 RAM Ballistic Crucial da 16GB Come SSD Summit Rocket 512GB Poi un hard disk per il storage Quindi un Seagate Barracuda da 2TB Un case dell'MSI anch'esso MEG Vampiric RGB Un alimentatore dell'ANTEC Da 650 Watt 80 Plus Bronze Un monitor dell'ACER ED270R Da 27 pollici Full HD Da 165Hz Poi abbiamo una tastiera da gaming MSI Vigor GK30RGB Un mouse E' sempre dell'MSI Interceptor DSP1 Altoparlanti della Edifier R17BT Una webcam VK E poi abbiamo le ventole RGB Della S-DAI Se anche le strisce led uguali Della stessa marca Oh no mia che l'ansia L'ansia da prestazione La vuoi provare a metterle tu? No Della S-DAI Dopo magari su qua ci attacco L'adesivo dell'MSI Della S-DAI Inauguriamo il cacciavitone ragazzi E' spettacolare Il cacciavito è nuovo E' il nostro protagonista di questo episodio Il cacciavito è questo Spaziale Il cacciavito è gigantesco E' il cacciavito è il cacciavito è il cacciavito Grazie a tutti. Mi sa che hanno dimenticato un pezzo. Mi sa che non l'ha messo dentro un pezzo. Eh, nel Waterball, manca un pezzo. E' un po' di da rito. Eh, mi sa. Andrei scherzando. No, sto scherzando, Andre. No, sto scherzando. No, sto scherzando. No, sto scherzando. Invincible. No, sto scherzando. No, sto scherzando. No, sto scherzando. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto se anche per voi è una configurazione Best Buy oppure avete qualche altra configurazione invitante. ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.